ciao sono alessia di alessia scrap and craft e casa organizzata se non vuoi perdere neanche uno dei miei video ti ricorda di cliccare la campanellina qui sotto in modo appunto da ricevere le notifiche appena esce qualcosa di nuovo ce ne sono spesso ne sto facendo molti e quindi seguimi ciao ciao buongiorno a tutti oggi un video completamente diverso dal solito perché vi voglio far vedere una cosa particolare eccolo qua parliamo di argento filato un'azienda che ho scoperto per caso e con cui poi ho parlato con gli artefici di queste piccole meraviglie che sono luisa paolo e fabio e sono marito moglie e figlio quindi un'azienda assolutamente familiare che fanno delle cose all'uncinetto ea maglia fatte con i metalli preziosi quindi parliamo di argento chiaramente ed eccolo qua queste sono queste scatoline che racchiudono queste meraviglie ve le voglio far vedere vi lascio poi qui sotto anche i link dello short e del sito e il codice sconto per poter comprare queste meraviglie che sono fatte proprio all'uncinetto guardate che roba proprio lavorata all'uncinetto lo vedrete perché nella short perché ci sono delle fasi di lavorazione l'uncinetto a maglia questa è una collana snake al fatta proprio all'uncinetto lavorando all'uncinetto e la catenina di delle catenine di d'argento sottili sottili e lavorate proprio con l'uncinetto come le lavoriamo noi ovviamente noi non abbiamo la possibilità di far diventare dei veri e propri gioielli come questi ma loro ci hanno pensato e luisa fa questo tipo di lavorazione particolarissima quindi adesso ovviamente in occasione anche della festa della mamma ve lo volevo far vedere perché questa qui è un'idea bellissima per farvi un regalo voi se ve lo volete fare ma fare per regali anche a mamme nonne zie eccetera quindi tutte le mamme e vedete che sono veramente meravigliose ce ne sono ci sono oggetti preziosi di tutti da tutti i prezzi questa è una collana ma poi ci sono orecchini e bracciali e mi hanno detto che stanno lavorando sugli anelli che sono un po più complicati da fare ma stanno cercando di trovare il modo ecco qua guardate che belle che bei che belle rifiniture non sono cineserie non sono cose fatte a macchina le cose che trovate in tutte le gioiellerie che sono quasi sempre fatte a macchina queste qui sono fatte tutte a mano e sono preparate dopo l'ordine quindi comunque ci vuole un tempo tecnico per cui se volete comprarli per la festa della mamma vi dovete un pochino affrettare perché comunque ci vuole un tempo tecnico perché vanno proprio lavorati quindi non sono fatti a sta con stampi o cose del genere guardate che meraviglia questa qui è la collana snake e in argento bianco perché c'è l'argento classico rodeato l'argento bianco che è questo qui e poi hanno anche l'argento dorato e doro rosa cioè l'argento dorato rosa quindi è tutto argento ma guardate che meraviglia vi vi lascio proprio qui e anche qui sopra ve lo lascio il link allo short dove potete vedere appunto alcune fasi di lavorazione che sono proprio incredibilmente simili alle nostre sia a maglia che all'uncinetto andate a vedervi tutto quello che c'è io poi vi farò vedere altri oggettini prossimamente in altri video perché veramente io sono rimasta senza parole quando ho visto queste cose meravigliose perfette per noi che amiamo questa questa arte perché qui siamo proprio nell'arte oltre che nell'artigianato meravigliosi veramente eccole qua vi lascio anche il codice sconto in descrizione video qui sotto e nel primo commento e 20 per cento esclusivo per chi mi segue e direi che per questo video detto tutto ma guardatevi lo short e vedete che meraviglie e vi farò vedere altre cosine perché sono veramente belle ce ne sono da tutti i prezzi quindi comunque non ci sono limiti nel senso se avete anche un budget limitato e c'è ci sono belle cose da comprare se avete un budget più alto idem ci sono le cose meravigliose come questa ma anche di più e se volete invece magari per un matrimonio o comunque per un'occasione speciale farvi fare qualcosa di particolare personalizzato fanno anche questo quindi potete chiamare e vedere se fanno se vi fanno quello che desiderate so che ha fatto anche borse borsette chiaramente piccoline ma comunque cose particolari veramente molto molto belle direi che ho detto tutto e poi vi auguro buon primo maggio e ci vediamo poi prossimamente per altri lavori all'uncinetto e anche per altri video su argento filato perché vi voglio proprio far vedere queste cose spettacolari ciao alla prossima e ricordatevi i link qui sotto e qui e qui sopra qui sopra e anche il codice sconto mi mi raccomando ciao